Sono sei gli attentati incendiari e dinamitardi che in meno di un anno due allevatori Sabato Malfeo, 72 anni, e il figlio Piero, 41, in compagnia di una terza persona Carmine Lamberti, 33enne di Ponte Cagnano, avevano attuato per minacciare chi aveva osato opporsi al predominio sui pascoli di una vasta area di terreni situati nei comuni dei Monti Picentini. Anche grazie a questo video ma soprattutto all'impronta ritrovata su una bomba piazzata all'interno dell'agriturismo Casale Piceno che per fortuna non esplose del tutto nei locali che si trovavano sotto sette appartamenti abitati, i carabinieri della compagnia di Battipaglia e della stazione di Giffoni 6 Casali hanno fermato il gruppo autore anche degli attentati all'agriturismo Barone Fortunato e al poligono di tiro Shooting Range. Un metodo di affermazione sul territorio che il procuratore Lembo nel corso della conferenza stampa non ha esitato a definire mafioso. Un sopruso contro la libera impresa che non va sottovalutato ha spiegato invitando anche altri imprenditori che dovessero subire questo tipo di soprusi e pensando alla vicenda dei bovini vaganti che pascolano in diversi comuni, ce ne devono essere tanti, a denunciare. È necessario però che gli imprenditori denunciano, diceva il procuratore Lembo. Senza dubbio, questa è una condizione importante per poter operare ma indipendentemente dal quadro complessivo, lo sforzo, la risposta e la presenza dell'arma soprattutto a livello locale, il rapporto stretto con i cittadini, devo dire che in questa, come in altre circostanze, ha aiutato anche a far uscire dalla paura, dalla preoccupazione.